Grande partecipazione nel fine settimana appena trascorso ai premi Open Day al liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula. Ne dà notizia con soddisfazione l'istituto che nella giornata di ieri e di sabato 16 dicembre ha aperto le sue porte dalle 16 alle 20. Alunni e docenti della scuola hanno presentato gli indirizzi di studio e le tante attività del liceo alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie per una scelta consapevole del proprio futuro scolastico. Sono stati quindi illustrati diversi indirizzi di studio tra cui poter scegliere il liceo scientifico tradizionale, scienze applicate, biomedico, l'opzione liceo matematico e i due licei scientifici quadriennali unici al sud della provincia di Salerno ad indirizzo tradizionale e scienze applicate. Nel corso della due giorni non sono mancate anche esperienze laboratoriali nel laboratorio di fisica, con le alunne e gli alunni del Pisacane che hanno mostrato ai tanti visitatori le molteplici attività e progettualità didattiche messe in campo dal liceo scientifico, offrendo così un'ampia prospettiva agli studenti delle classi terza delle scuole secondarie di primo grado chiamati a scegliere la scuola da frequentare per l'anno scolastico 2024-2025. Dopo i primi due Open Day, altri ne sono previsti nel prossimo mese di gennaio e in particolare nei fine settimana del 13 e 14 e del 20 e 21 gennaio. Intanto sono programmati altri appuntamenti importanti, oggi e domani 19 dicembre e poi il 12 e 19 gennaio dalle 17 e 30 alle 18 e 30 per chi lo vorrà sono in programma gli incontri di chiarimento con staff e dirigente prenotandosi con una mail a orientamentochiocciolaicpadula.edu.it Dall'8 gennaio poi sarà possibile anche partecipare ad una lezione al liceo Pisacane nell'ambito dell'iniziativa Un giorno da liceale a cui potranno aderire gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado previa prenotazione.